Ando in pista, vediamo se questa volta il segnale sarà convalidato Sembrerebbe proprio di sì e Rufina Spin questa volta va davanti Rufina Spin in vantaggio, Tenebroso Spin di rincalzo Poi Tome dei Grippi, mentre all'esterno c'è la rottura di Ulpia Griff Che è una partita molto svelta In quarta posizione allo steccato Titano M All'esterno risale subito Pacific Model Poi lungo la corda Tesis GV E siamo all'ingresso del passaggio di fronte alle tribune Rufina Spin al comando Di rincalzo sempre Tenebroso Spin Allargo Tome dei Grippi si porta presso Pacific Model Poi ancora Tesis GV allargo Ma in terza ruota viaggia Regale Che è stata anticipata da Principe Mann Quarta posizione allo steccato per Shiva Ferm Intanto siamo a metà gara con Rufina al comando Tome all'esterno in corda Tenebroso Allargo Pacific Continua a forzare in terza ruota Regale Ma non guadagna un gran che Mentre sposta Pacific Model a 600 dal termine Va ad incalzare Tome dei Grippi Davanti c'è sempre Rufina Spin seguita da Tenebroso E poi da Titano OM Pacific all'attacco di Rufina Spin Poi Tome dei Grippi in calo Di dentro viaggia Tenebroso Spin Con in scia Titano OM Tesi GV prova la terza Siamo al termine della curva conclusiva Rufina alla corda L'attacco di Pacific Model Destra libera per Tenebroso Spin Retta di arrivo Rufina Pacific che attacca Poi Tenebroso di dentro Titano OM 150 alla conclusione Con Rufina Spin Che reagisce ancora bene Lungo la corda Finisce forte Tenebroso Spin Rufina Spin Poi Tenebroso Poi Pacific Al quarto posto Shiva Ferm 5-2-8 La combinazione Tris La quota per Rufina Spin È di 4,32 In Salchi Evelio Storti Al training Antonio Storti I colori sempre di Evelio Storti E Eccoli qua Rufina al primo posto 5 Tenebroso Al secondo 2 E al terzo Pacific Model È tutto per oggi Un saluto da Via Riberti E a tutti un buon proseguimento Di giornata